Le macchine si avvicinano, gli occupanti si studiano e poi secondo le logiche degli scambisti portano a termine i loro loschi scambi. Avviene da anni qui a Trezzano sul Naviglio luoghi noti a chi pratica lo scambio di coppia, una situazione che per ora sta degenerando e varcando i limiti della ragionevole tolleranza. Lo dicono i cittadini che riuniti in comitati e già esasperati i danni di degrado ora denunciano un aggravio della situazione, un malaffare che si sposta dai parcheggi dei centri commerciali alle vie limitrofe e zone residenziali che meriterebbero maggiore attenzione. Questo problema si ripercuote principalmente sui cittadini di questa zona e diciamo forse in particolare sulle donne. Una donna di sera qui non può circolare tranquillamente perché rischia di essere abbordata e rischia anche qualcosa di peggio. Ma i cittadini a piedi o in macchina non sono liberi di vivere le loro vie in maniera tranquilla. Il rischio è quello di fare brutti incontri o di essere scambiati per chi vuole partecipare a questa attività di scambio di coppia. Lo scambio di coppia spesso e volentieri si mescola ed è intrecciato con l'altra attività di prostituzione. Le ordinanze del passato avevano momentaneamente indebolito il fenomeno ma l'attuale condizione di cittadina commissariata non consente di risolvere il problema che diventa ogni giorno più grave. Grazie